Sorridenti, i leader europei ostentano un certo ottimismo a Bruxelles perché l'accordo raggiunto dai ministri delle finanze alla vigilia del vertice spiana la strada trattativa e sull'unione bancaria sulla carta più rapide. Tanto che il presidente del Consiglio europeo, Herman Varon poi, si lascia persino sfuggire una battuta sulla settimana cominciata con il nobe per la pace all'Unione europea. Il peggio è dietro di noi, ha detto, ma naturalmente molto deve essere ancora fatto. Abbiamo iniziato bene questa settimana a Oslo, cerchiamo di terminarla bene a Bruxelles con un risultato positivo. A dare la sensazione di un vertice dal clima più disteso rispetto ai precedenti è proprio l'immagine della coppia franco-tedesca. Angela Merkel e François Hollande sembrano aver trovato finalmente modo per intendersi, tanto da svolgere negoziati bilaterali prima di arrivare alla riunione di tutti i capi di stato e di governo. Ma la prudenza è d'obbligo, sottolinea il nostro inviato, perché l'anno prossimo ci saranno ancora molti ostacoli da superare, le elezioni italiane, ulteriori trattative sull'integrazione della zona euro e la scottante questione del bilancio comunitario da risolvere.